Due anni fa vi ho fatto una promessa, grazie da Cervis vi avrei portato all'Ezber Rodeo. Poi gli avvenimenti hanno preso un corso diverso, ma la nostra voglia di enduro non passa. E allora abbiamo deciso di partecipare all'ultima tappa del trofeo KTM a Bibione. Gara sulla sabbia, una sorta di tucheno strano, una gara un po' particolare. Oggi siamo qua dagli amici di Enduro Republic per selezionare uno di voi, anzi uno di loro, che prenderà parte con me alla tappa del trofeo KTM. Su cosa vi valuteremo oggi? Sostanzialmente avremo 5 voti, tempo prova speciale, trasferimento, controlli orari, assistenza moto e condotta. Quindi dovete fare anche i bravi. Però è doveroso presentarvi il padron di casa, quindi Alessandro Tramelli, grande esperienza nell'enduro, che ci presenterà un po' quello che andremo a fare oggi. Abbiamo detto gara un po' particolare, quella di Bibione, però qua li valuteremo su una gara tradizionale di enduro. Benissimo. Allora presenta quello che faremo oggi. Lasciate la parola. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, ciao a tutti ragazzi. Sono Alessandro Tramelli, responsabile della scuola di Enduro Republic. Abbiamo qui con noi Fabio Ercolani, che è uno dei nostri istruttori. E come vi dicevo, oggi simuleremo una gara di enduro tradizionale. Quindi qualcuno di voi ha già partecipato alle gare? A gare? Alzate la mano. Quindi tutti più o meno avete fatto gare. Quindi cosa succede? Una gara normalmente si svolge su un giro, un anello di una quarantina di chilometri, normalmente o anche di più, però noi facciamo conto che sia una quarantina di chilometri. Comunque quello che faremo noi oggi sarà partire, arrivare al CO1, la prova speciale. E qui dove abbiamo il CO1 faremo un CO2 che ci riporterà al CO1. Quindi faremo un esercizio su un anello più corto, naturalmente, per stare nei tempi e per farvi capire bene però com'è il funzionamento quando si arriva al CO1. Perché quando arriveremo qui avremo veramente un tempo in posto. Ognuno di voi avrà un tempo, sarà un anello breve di 10 minuti. Dove però voi dovrete guardarvi il tempo. Noi metteremo un orologio lì anche comunque al furgone. E avete il vostro tempo esatto di ingresso. Quindi proprio una simulazione di gara. Allora, le cose che vi raccomando. Il trasferimento adesso di partenza lo faremo tutti insieme. Non sarà segnato dalle frecce, a differenza di quello che troveremo là in alto, che lo farete singolarmente. Faremo un trasferimento tranquillo e non ci sarà bisogno di andare a vita persa o fare la gara tra di noi. Semplicemente ci trasferiamo da un punto all'altro. L'organizzazione ha già previsto che si attraversino villaggi, case. E quindi voi dovete imparare, questo quando, quello che dicevamo per condotta. Bravo, cosa stavo dicendo? Anche perché tanto c'è il voto di condotta e quindi si sgarano. Ve lo dico perché io sarò davanti, ma Fabio sarà dietro e impennate in mezzo ai paesi o altre cose di questo genere verranno segnalate come punteggi estremamente negativi. Quindi fate voi un po' i vostri conti. Perché come diciamo, è duro, ci vuole rispetto. Assolutamente. Noi diventiamo dei rappresentanti del nostro sport perché non siamo quelli che vanno a girare solo la domenica. Poi l'altra parte importante per le valutazioni che ci stava dicendo sarà che voi al vostro controllo orario dovete essere capaci di gestirvi. Perché normalmente abbiamo i motoclub che ci tengono i tempi, però se per caso quello del motoclub è impegnato in qualcosa, dovete essere voi primi a vedere l'orario di ingresso del vostro CO, sapere che avete fatto la benzina, perché poi alla fine succede qualcosa che prendete in ritardo, non bisogna incolpare quello del motoclub. I primi responsabili della vostra gara siete voi. Benissimo. Allora ragazzi, dai si sali in moto e si parte. Via. 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 Ed eccoci riapparsi qua. Le prime sensazioni, i ragazzi si sono comportati bene? Devo mettere qualcosa in condotta? Allora diciamo che il primo voto in condotta è molto buono per tutti. Ho trovato i ragazzi che si muovono bene, sono bravi ad andare in moto anche ho visto e si sono comportati benissimo. Abbiamo fatto questo primo trasferimento. appunto di circa 40 chilometri ed ora siamo arrivati al nostro CO1 dove inizieremo l'attività di questa piccola gara diciamo così, simulazione di gara diciamo così, dove daremo un tempo imposto in questo tratto nel bosco diciamo e poi abbiamo qui dietro la nostra prova speciale cross test che sarà inclusa in questo anello che faremo. Adesso mettiamo giù i tempi di partenza. Esatto, adesso loro avranno per fare questo anello che ripeteranno per quattro volte avranno 15 minuti di tempo e nei loro 15 minuti è compreso il verificare la moto, fare la benzina, bere qualcosa, andarsi a fare la prova speciale e poi fare l'anello che ritornerà qui al loro orario perfetto quindi entreranno al loro orario che noi scriveremo adesso e ognuno avrà il suo. Io controllerò quindi state attenti e niente si parte. Direi che siamo pronti. Vai. Via. Grazie. Ed eccoci rientrati dal giro. L'ambientazione mi ricorda un po' quella come diceva giustamente Alessandro di Masterchef ma dell'enduro perché ovviamente non si parla di cucina ma di tasselli. Quindi lui vi anticipo che farà il bastianici della situazione quello che vi chiederà ma se vostro padre vi ha insegnato a guidare così insomma quello che vi bastonerà. A parte gli scherzi grazie di essere stati con noi quest'oggi. Grazie ad Acerbis innanzitutto che ci ha permesso di dare vita a questa iniziativa. A KTM che poi ci ospiterà all'interno l'abbiamo detto dell'ultima tappa del KTM trofeo a Bibione e poi ad Induro Republic che ci ha ospitato e ha aperto le porte della loro casa. Con piacere. Quindi grazie per questa super accoglienza. Grazie a tutti voi che avete condiviso con noi la vostra passione e poi soprattutto che avete anche rispettato i tempi editoriali perché lo avete visto fare un video non è semplice bisogna fermarsi, microfonarsi insomma. Sembra semplice fare un video a due o tre minuti ma così non è. Però bravi perché avete guidato bene perché vi siete comportati bene. Adesso poi passo la parola a Fabio ed Alessandro che vi bacchetteranno dove serve essere bacchettati. Quindi Alessandro, Fabio, cosa avete visto? Piccole correzioni, macro correzioni, cosa consigliereste ai nostri amici? Allora devo dire che il gruppo è un bel gruppo di persone che si sono mosse bene nel trasferimento siete stati educati come abbiamo detto e quindi questo è stato un metodo di valutazione importante. Qualche impennata mi hanno detto? Qualche rapatina però diciamo che eravamo in zone un pochino isolate quindi dai passano, ci sta, ci vuole un po'. E invece poi siamo arrivati nella parte più tecnica dove abbiamo fatto la nostra simulazione di gara e lì qualche differenza si è visto però devo dire che c'è qualcuno che deve lavorare un po' di più magari per prepararsi meglio proprio alle gare specifiche però c'è qualcuno che si è mosso bene sia sotto la tenda a lavorare sulla moto sia a stare attento al CO, entrare a parola speciale quindi direi che è stato difficile scegliere perché si è stati tutti molto bravi devo dire assolutamente. Sì sono andati tra l'altro anche molto forte quindi sono comportati bene qualche piccola caduta però il fondo era viscido perché era molto tecnico. La prova speciale di oggi era estremamente tecnica, il terreno molto insidioso e quindi portava anche all'errore bisogna dirlo questo e ci sta perché comunque eravamo in prova speciale quindi attaccavano e va bene. Volevamo vedere anche un po' di attacco giustamente. Perfetto allora lo avevamo detto i metri di giudizio erano tempo prova speciale, trasferimento, controlli orari, assistenza moto e condotta. In più c'era un voto extra per l'attività social che bene o male avete quasi fatto tutti qualcuno ha recuperato all'ultimo perché comunque era agitato magari durante le prove non aveva con sé il telefono quindi va bene. Poi dopo faremo un piccolo richiamo ci sta. Allora dicevamo visto che vi siete comportati tutti abbastanza bene una grossa discriminante è stata quella del tempo e quindi vi ha diciamo alcuni sono stati un po' penalizzati nonostante si siano comportati molto bene alla fine il cronometro. Perché c'è stato bisogno di trovare una discriminante perché siete stati tutti bravi. Anche all'inizio avevamo detto il cronometro non era così discriminante però visto che bene o male vi siete comportati tutti bene durante i controlli orari il controllo della moto e le varie attività insomma quello è stato un punto in più. Poi c'è stato un voto dato da ognuno di noi tre quindi a uno di voi quello che a nostro parere poteva essere il preferito e da lì abbiamo stilato una classifica. Intanto non raccontiamo i tempi non li diciamo possiamo dire che tra i più veloci ci sono stati Giorgio Mattia e Ivan questi sono stati quelli insomma che hanno spiccato un po' di più però anche gli altri erano lì insomma non è che hanno fatto grosse differenze. C'è stata anche qualche caduta quindi qualche rallentamento in questo senso lo avevamo detto avremmo portato uno di voi a partecipare al KTM trofeo KTM però abbiamo fatto una cosa incredibile ovvero negli ultimi 5 minuti ci siamo riuniti visto che insomma siete davvero bravi abbiamo creato una cosa pazzesca incredibile e proprio adesso abbiamo deciso di portarne due ovvero due di voi verranno con me a Bibione quindi una cosa che speriamo apprezzate. Molto speciale. Abbiamo cercato di avere una moto in più anzi la mia che purtroppo devo dire vi cedo molto volentieri. Annaggia la vede ok però è un bel gesto. Vi farò da assistente quindi io vi seguirò durante le fasi se avrete bisogno di qualcosa vi farò da aiuto meccanico per quello che potrò anzi spero che a ottobre mi muoverò. Nel migliore dei modi e allora adesso arriviamo finalmente alla ai diciamo i quattro anzi tre che sono arrivati in finale giusto Alessandro e Fabio. Allora in finale sono arrivati Mattia Giorgio e Ivan ok che insieme tra l'altro no anche Lorenzo perché comunque ha fatto dei buoni punti anche Lorenzo sono arrivati nella super finale. Poi adesso rullo di tamburi il primo ovvero quello che è stato selezionato per partecipare insieme poi lo diremo al secondo perché ricordiamolo ci sarà un secondo partecipante. Il primo che verrà con me al trofeo KTM a Bibione quindi gara sulla sabbia gara difficilissima complicata chi sarà? Rullo di tamburi come la tradizione Enduro Republic prendiamo il microfono chi sarà? Giorgio Occhi Pinti grande Giorgio che ci ha raggiunto dalla lontana Sicilia bravo Giorgio vieni qua con noi dai sali su. Allora che si è comportato molto bene è andato fortissimo dovevi fare anche un po' di attività social un po' di comunicazione all'ultimo ho visto che proprio dieci minuti fa hai pubblicato qualcosa quindi io ti porto via con me però devi promettere che non solo corri perché ormai il pilota deve fare anche questo lo sappiamo. E' una vita dura ma devi essere concentrato confrontarti con gli altri in più fare anche stories video foto quindi mi raccomando ti tengo d'occhio quindi bravo però ha meritato un super punteggio super punteggio che poi ha condiviso lì lì se l'hai giocata di nuovo prendiamo il microfono adesso lo faccio con Fabio e chiamiamo il secondo che verrà con me a Bibione è Mattia Saggio. Bravo che ha fatto un buon tempo ha fatto un po' di attività social quindi è stato più bravo quindi diciamo che ecco però lui la curva della staccionata la curva della staccionata è così che si fa la curva della staccionata quindi allora se lui è rimandato a settembre per l'attività social tu sei rimandato a settembre per la pulizia di linee e il gas comunque bravi un po' più di gas però bravi 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 e adesso ragazzi tutti superi saluti così ci facciamo vedere mi raccomando vi aspettiamo anche voi a tifare Mattia e Giorgio e tutti i piloti del trofeo KTM Bibione 17 ottobre ringraziamo a Cervis che ci ha permesso di essere qui quest'oggi Moto.it che vi ha accolto ma soprattutto Eduro Republic e poi KTM perché ci darà le moto. Ciao a presto! Ciao a presto!